La partita è durata fino al 28esimo del secondo tempo, noi avevamo preparato una partita su dei ritmi tecnici il più elevati possibili cercando di giocare un calcio propositivo, soprattutto dietro ai due mediani Lollo e Bianco che hanno sostanza, hanno gamba e al di là degli interpreti il nostro obiettivo era giocare nella tre quarti. Ci siamo riusciti come concetto, a volte non con continuità, ma siamo mancati un po' negli ultimi 30 metri anche se la traversa, il palo di coda è importante, abbiamo fatto due cross altrettanto importanti ma l'episodio in questi momenti della stagione cambia veramente il film della partita e ovviamente anche la classifica all'episodio mi riferisco in termini numerici e in termini mentali, noi nel primo tempo abbiamo avuto due volte la palla che ha palleggiato nell'area piccola, lì è mancato un niente per il tapin, credo che la Salernitana se fosse stata in vantaggio il primo tempo c'era poco da dire, anzi io avevo l'ambizione di giocare un secondo tempo ancora più propositivo e veloce per cercare di vincere. Il secondo tempo è stato più equilibrato, avevamo anche cambi contati, avevamo problemi sia medici che fisici e poi l'episodio del rigore al 28esimo ovviamente cambia gli equilibri e della gara e anche della testa della squadra. C'era il rigore a vista? Avete visto in praticamente due minuti come cambia la classifica e come cambia la partita, il Carpi l'ho detto e sono i miei complimenti perché è una squadra che conosco molto bene, non una vita fa con un tipo di gioco e un'abilità individuale con gli attaccanti che ha giocava un calcio a palla diretta con grande forza e con grande abilità non puoi sbagliare nulla, Salernitana ha sbagliato pochissimo è sbagliato che quando Bakogo è di schiena e io non so se c'è o non c'è il contatto, non sto ripeto a giudicare l'operato dell'arbitro ma non bisogna dare opportunità al Carpi su questo fronte offensivo, mentre invece noi avremmo dovuto segnare, lì diventava un'altra partita e questo è un momento in cui nella stagione chi segna per primo poi ha anche forze mentali diverse e adesso abbiamo ancora due partite da giocare, io nel primo tempo ero ripeto arrabbiato perché volevo il vantaggio e volevo giocare un secondo tempo veloce con un calcio rapido e continuare nelle occasioni da rete ripeto è stata più equilibrata la gara del secondo tempo e adesso dobbiamo cercare di sbagliare il meno possibile ma di essere comunque sempre propositivi e di lottare da maglia come hanno fatto in maniera incommiabile i tifosi sulla curva perché insomma credo che sia una tifoseria unica e lo spirito deve essere quello da parte nostra e dei giocatori il rimpianto è che ultimamente per come giochiamo non siamo fortunatissimi, Cini ci avremmo dovuto segnare di più e oggi la mia era una speranza ancora playoff a prescindere che si facciano o non si facciano onore delle armi al Carpi perché quando sai giocare anche sull'errore dell'avversario vuol dire che sei una squadra matura, esperta e anche quello insiste il rimpianto è che c'è una grande soddisfazione c'è una grande soddisfazione perché navigare in bassa classifica è molto difficile in questo campionato noi siamo stati bravi nel gioco, nella gestione e nella testa